un minuto compadre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo la sacrestia della chiesetta antica un luogo preziosissimo in cui ha vissuto san pio da pietrelcina oggi qui con un libro tra le mani di padre paolino padre paolino ecco lo vediamo proprio qui padre paolino da casa calenda che è venuto a mancare nel 1964 ma lui aveva raccolto tanti appunti che poi padre gerardo di frumeri ha voluto pubblicare dieci anni più tardi la morte di padre pio nel 78 e inserendolo nella collana testimonianze in questi racconti tanti aneddoti ecco per ricordare chi è padre paolino padre paolino a quel frate che era all'epoca guardiano del convento di san giovanni rotondo nel 1916 riuscì a portare qui proprio perché stava male a foggia il 28 luglio del 1916 padre pio da pietrelcina e quella dimora che doveva essere provvisoria nel settembre del 1916 poi diventerà definitiva diventerà questo il suo convento e dobbiamo dire anche grazie a padre paolino padre paolino nei mesi in cui padre pio era a foggia scendeva spesso e lui racconta che nel maggio del 1916 lui si è trattenuto qualche giorno nel convento di sant'anna dove dimorava padre pio da pietrelcina e in questo convento lui già dal 1912 al 1914 quando era di convento a sant'anna padre paolino racconta che guidava spiritualmente una ragazza annina rodote che poi diventerà figlia spirituale di padre pio e diventerà sor margherita rodote in un istituto dello spirito santo ecco un fatto molto particolare ci vuole raccontare padre paolino e lo fa da questo libro che il demonio non cessava di tormentarlo ecco perché raccontarvi anche di annina perché proprio un fatto particolare lo racconta annina a padre paolino padre mi è capitato ieri un fatto che mai è venuto nella mia vita potevano essere quasi le due del pomeriggio avevo già mangiato mi ero messa a lavorare con la mia macchina da cucire e quando con voce chiara e intelligibile mi sono sentita chiamare per nome annina annina a questa voce mi sono riscossa perché credevo che mi fossi addormentata ma la voce poi seguito a chiamarmi per cui allontanai il pensiero del sonno e ascoltai ad occhi aperti e con l'orecchio teso la voce che mi veniva da questa persona invisibile annina annina mettiti in ginocchio prega per me perché in questo momento sono molto tormentato dal demonio e siccome io quasi stordita racconta ancora annina padre paolino fuori di me stessa per lo sbalordimento temevo e non mi decidevo allora la voce diventava ancora più insistente presto annina presto non dubitare perché sono padre pio che ti chiedo di pregare con me in ginocchiati e recitiamo insieme le litania della madonna allora caddi in ginocchio racconta annina padre paolino e cominciò lui con il chiri e leiso e io poi cominciai a rispondere proseguendo sino alla fine dopo che egli recitò l'oremus di conclusione grazie mi disse annina ora sono più tranquillo e allora subito padre paolino rispose alla ragazza sentite dissi alla penitente su due piedi non posso dare alcun giudizio trattandosi di un fatto abbastanza serio e per me anche nuovo comunque voglio darvi questo consiglio che se voi riceverete altre segnalazioni di questo genere rispondete alla voce che voi pregate sempre per il padre pio ma che voi non amate questo metodo di domandare preghiere per non andare incontro a delle illusioni potete anche dire che così vi è stato consigliato dal vostro confessore gli ha risposto padre paolino allora il giorno dopo la giovane penitente subito mi fa chiamare e mi manifesta la scena che si era ripetuta come il giorno antecedente la voce del padre era più insistente pressante e quando la giovane fece capire che per consiglio del confessore non poteva accettare questo metodo di comunicazione proprio per evitare delle illusioni il padre allora rispose ma non c'è niente illusione di tutto questo io ho bisogno di anime che si uniscono a me a pregare specialmente ora gli diceva padre pio che tentato dal demonio ne sento proprio vivo il bisogno perciò fammi la carità di pregare con me la scena si concluse scrive padre paolino come il giorno prima allora per meglio assicurarmi scrive padre paolino nelle sue memorie e poter conchiudere che ciò che mi raccontava la penitente rispondeva solo ed esclusivamente a verità e quindi esulava dal campo naturale allora consigliare la giovane che nel caso che padre pio la chiamasse nuovamente il giorno dopo e alla stessa ora dei giorni antecedenti si facesse dire proprio in che posto era nel convento è inutile dire che il giorno dopo scrive padre paolino io studiai con molta attenzione tutti i movimenti di padre pio in convento dove andava che cosa faceva e specialmente il luogo dove lui era a quell'ora alle due del pomeriggio in cui era solito chiamare la penitente per farla pregare con lui di modo che quando seppi il giorno dopo scrive padre paolino alla solita ora fu nuovamente chiamata il luogo che il padre le indicò io potei controllare che ciò rispondeva proprio a verità lasciai la giovane donna in piena libertà di poter pregare con padre pio ogni volta che era chiamata da lui